Ciao a tutti, sono Martina dell'Ombra e vi volevo parlare di un argomento super importante che a me sta molto a cuore, ovvero la vendita di questi biglietti del 3 di novembre a Cesena per l'evento del Roghi 1000. E secondo me questa cosa del biglietto a 67 euro è veramente da super poracci perché secondo me il biglietto doveva costare almeno 500 euro e quindi io mi astengo dal partecipare. Anzi, vi volevo dire che tutti questi che se rivendono i biglietti a 800 euro sono ancora dei più super poracci. Quindi, niente, ho finito le parole e vi volevo dire tanti chissini a tutti e buona giornata da Marti. Chissini!